Tripodi, presidente della Bagnarese, se facciamo un passo indietro quest'anno da come era partita la Bagnarese, addirittura dalla non iscrizione, adesso possiamo dire che sta facendo un bel campionato, quantomeno un buon inizio stagione. Ma diciamo che effettivamente stiamo facendo oltre le nostre rosseve e previsioni, noi abbiamo costruito una squadra con dei ragazzi di Bagnarese, sapevamo il valore di questi ragazzi però c'era sempre l'incognita perché da tanto tempo alcuni di loro non giocavano più, quindi c'era sempre l'incognita da come si poteva. E devo dire che effettivamente stiamo andando molto bene, stanno facendo contenti i numerosi tifosi che ogni sabato vengono a vederci sul nostro campo e quindi più di questo non ci potevamo aspettare. Presidente, pur ringraziando tutti coloro che in qualche misura hanno collaborato e partecipato affinché la Bagnarese si iscrivesse al campionato e perché potesse iniziare questo campionato, c'è da dire che le difficoltà economiche non mancano. No, quelli persistono sempre anche se le difficoltà sono molto minori che nei passati campionati perché le spese danno sostenute sono molto ma molto inferiore alle precedenti gestioni. Noi siamo una società più che società dove tutti quanti ci tassiamo con dei soldini, siamo due o tre persone che rispondiamo economicamente e poi il resto sono tutti collaboratori anche se molto validi. Però a livello di contributi siamo sempre in pochi quelli che dobbiamo far fronte sia nella raccolta di sponsor sia di tutte le problematiche che ogni settimana si presentano. Ecco, domenica arriva l'Archi, Bagnarese terzo posto in classifica, ci sono delle assenze, domenica arriva qui l'Archi. Sì, purtroppo domenica abbiamo qualche defensione importante, ma questo va bene che aumenta la difficoltà della partita, anche perché andiamo a scontrarci con una squadra molto difficile. L'Archi è una squadra ben messa in campo, noi abbiamo delle assenze che per noi potrebbero rivelarsi alla fine determinanti, assenze di peso come spanti, come tripodi, che hanno avuto uno per motivi di lavoro, l'altro per un infortunio a una caviglia e quindi comunque credo che la squadra sia nelle condizioni di poter vincere la partita e sfruttare il fattore campo che per noi può essere determinante. Una parola per l'esordiente Musumeci? Ma guarda, per Musumeci più che una parola ci vorrebbe mille parole. La società è contenta di aver richiamato Totò, è stato chiamato per dare una mano ai tanti ragazzini che abbiamo in squadra e farli maturati assieme a lui, perché lui ha tante esperienze che ne può vendere a chiunque e comunque anche sotto l'aspetto tecnico devo dire che Musumeci vale sicuramente più di tanti giocatori che pensano di essere superiori a Totò.